Ragazzacci del web, un salutone da Nabaccio e benvenuti in una ennesima nuova serie sul canale Ebbene si ragazzacci, i ragazzuoli della community, nello specifico quelli che bazzicano sul mio canale telegram difatti vi invito tutti quanti a passare in descrizione dove trovate il link al canale mi hanno fatto vedere questo nuovo pack e come sempre cercando nuovi contenuti da portarvi sul canale credo che non abbia ancora mai portato nessuno in Italia, è un pack molto nuovo, è molto leggero e da quello che ho potuto vedere ve lo consiglio fortemente direi di andare subito in partita con un single player e creare un nuovo mondo come potete vedere c'è già un qualcosa di strano Ebbene si ragazzacci, questa sarà, da quello che ho potuto capire, una sorta di skyblock parliamoci chiaro, ma dove tutto il mondo è ricoperto di lava e questo è l'unico nostro spazio abitabile Ebbene si ragazzuoli, siamo sopra un mare di lava e questa lava fa un casino della madonna quindi fatemi intanto particello di Chris ragazzacci, questo è Volcano Block oh mio dio, paura, paurissima di questa cosa ma va bene mi raccomando ragazzacci, un super mega like per questa cosa perché a me mi garvanizza partiamo con in mano un coltello di legno ok e il nostro questbook diamo un'inocchiata capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3 ok è a step proprio bello e ci sono delle mod che non conosco molto bello questo non so cosa sia però va bene capitolo 1 andiamo ragazzi non so se è abbastanza maccaba questa cosa ho usato il traduttore perché non ero sicuro di aver capito praticamente dice sono chiuso qui solamente con questo libro e questo coltello tempi disperati richiedono misure disperate vuol dire che mi devo picchiare con il coltello? no ah ah shift tasto destro mi faccio male da solo ok questa è carne di giocatore dimmi che ho fatto la quest grazie e come la ottengo la bomille? scusami fammi capire ah ok dà la carne di giocatore mi sembra giusto va bene ho la bomille yeah oh mio dio va ok si mi dà ok grazie meat kebab già meglio what a no what a no arrompendo il grass occasionalmente ti dà degli stick non volevo fare questo no brutta cosa bruttissima cosa ehm si va bene ora ho capito vedete devo spammare bomille ogni tanto mi dà degli stick ok ok no no fuoco brutto fuoco cattivo già c'ho il buco voglio degli stick dammi il poppy grazie va 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 bene eh vorrei evitarmi evitare di eh uh cane da zucchero no cattivo fuoco cattivo 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 niente stick vorrei evitare di farmi dell'altro male fisico grazie mi dai degli stick no eh il poppy non lo voglio il poppy uh stick uh stick ah stick belli stick ok ehm si mi devo fare tre stick io non 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 volevo farmi male però ho dovuto eh va bene sì eh vorrei altri stick no i poppy non mi interessano grazie dello stick stickettino mio bello e vai ora se io faccio così no così sì perfetto grazie ho la oe eh sono stato bravissimissimo sono stato grazie della ciccia patate butta le patate nella lava for quick dream va bene non ho patate però dove le trovo le patate poteto poteto o poteto o poteto ok no non ti bruci non prendere fuoco dammi delle no le stick voglio le patate uh uffa stick stick patate ho possibile che cosa mi ha dato cosa sei tu normi sider allora ragazzi io mi sono fatto male un monte di volte e mi sono anche finito quasi il cibo però ste patate non arrivano e vabbè andiamo avanti per ora poi vediamo insieme le patate ok praticamente mi dice di shiftare per velocizzare tutto quanto 4 normi sider artesia sider ah l'artesia sider si fa così ok perfetto e tacchite e ci abbiamo pure lui bene e adesso sono bravissimissimo mi dai guida tu mi troppo perfetto vorresti che facessi una crafting table harvest allora tu sei un fiore un seme quindi penso che ti possa affiantare uh e se shift cresce dai shiftiamo insieme shiftiamo insieme shifta cresci 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 non cresce non cresce aspettazzato aspettazzato aspettazzo aspettazzo mettiamoci in posizione aspettazzante è cresciuto cresciuto vai 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 va come cresce va come cresce 71 mamma figlio mio ma è selento 85 dai su ok e questa è salve crafting table come stai tutto a posto è tanto che non ci vediamo allora guardiamo un attimo questo libro eh si salve darmi l'unarmi cos'è quanta roba figa c'è qua allora salve lei è una craft table e quindi mi potrebbe servire per tappare il buco oh yes ah posso camminare qua sopra sono contento quindi a sto punto io farei anche una cosettina furba ce n'ho quattro e e li pianterei sti così che se crescono mi danno robe vorresti dire eh ho la craft in table sono bravissimissimo mi dai un'altra buon meal grazie posso fare il gas non te lo sanno allora devo fare un draining basin un hack bucket e un e bale allora questo qui serve per creare acqua eccellente con gli stecchetti così me lo dici a questa maniera tacchite tutto lì senti io la rischio e la poggio qui il bucket di legno con gli stecchetti vabbè con gli stecchetti ci fa tutto qua mi mi fio mio mese lento però te mi dai uuuu eccole le patate e mi dà ancora uuuu va che roba che mi dà bene ragazzi avevo giusto giusto fame e e volevo capire una cosa te mi hai detto che se io tiro la patata qua si coce la patata ma sei un mito allora te ti ripianto e te ti ripianta mi dia degli stecchetti perchè io con gli stecchetti poi ci faccio robe ce ne ho due soli non è ancora un po' perfetto voglio tanto bene ok cosa sei flux no brutta la brutta fuoco brutta fuoco fuoco cattivo te ti semino perchè te mi sa che sei importante eeeh quindi stecchetti stecchetti uuuu ok siamo a due poi che voleva alle ibeel come ti faccio i beel con il grano mi sembra giusto e il grano lo ottengo con i semini si però io non ho semini allora voi per caso mi date dei semini no mi da direttamente il grano e il grano mi si converte in semini mi sembra giusto e doveroso perfetto eccellente e quindi a sto punto eeeh te ti metto qua te e te ti pianto e ci abbiamo i semini oh yes i semini ok si però se non mi dai il semino sono molto aspetta tu fuoco brutto e va e dai e dai si procede ragazzi mi faccio un po' di di robettina qua e vediamo dove si arriva ho scoperto una cosa bellissima che se cammini shiftato è come se se sculettassi molto più efficiente si fa prima mamma mia ma come va ma come va ma come va ok ragazzotti ho ottenuto finalmente un po' di wit per fare una balla allora mi chiede una balla e non la balla l'abbiamo fatta nel frattempo faccio crescere questa così guadagno spazio allora io con la balla se la metto qua che succede fa particelle mmm non lo so ok come lo tengo un bucket d'acqua allora un blocco di grass si ah va bene perfetto eccellente top della vita salve acqua come stai tutta a posto eh va bene eh si mi sembra giusto e doveroso una non prendere fuoco eh non te cattivo eh allora eh grazie bello questo la voglio allora devo fare 9 artesia seed artesia seed così perfetto spammale spammale tutte 9 top ce l'ho l'ho fatto ah prima voleva questo ok grano grano vieni grano vieni ciccio grano grano dove vai grano allora ho abbastanza grano si vediamo anche tutta sta robettina qua bel fuoco brutto ti ho detto lì c'è una bitroot perfetto e abbiamo oh yes salve signor grassbock quanti ne voleva lei da questa questa o questa ah 5 ci vuole no fuoco brutto ok fuoco brutto c'ho tutto quanto per fare l'ultimo pezzo di grass oh ma la fine ti andrà a fuoco da ogni bene allora e ci abbiamo questo e del bon meal e questo e del bon meal perfetto io voglio questo come lo faccio questo ok perfetto fuoco brutto allora eeeh allora com'era così no era 5 quindi vedrai va così e questo tutto intorno no come ti sbagli mai una volta una soddisfazione che ci piglia il primo colpo nemmeno ragazzacci vi dico che è un quarto d'ora che smatto per capir come si fa sto caspita di semino della cobblestone forse l'ho capito perché ho avuto una mezza illuminazione seguitemi ok sto coso si fa così questo è il crafting va bene ok però qui non c'è una crafting table c'è il fiorellino che mi dà le crafting table non è che sto coso per caso funziona da crafting table 2 3 4 5 no come funziona sto coso come si fa ci va droppato non è così eventualmente molto probabilmente mi dà la terra mi dà la terra va bene ne faccio altri ok sono arrivato a 5 allora se piazzarli non va bene proviamo a dropparceli oh yes 1 2 3 4 e 5 1 2 3 oh yes si dammelo dammelo lo voglio è mio lo voglio dammelo 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 rompo il fiore devo rompere il fiore il semino della cobblestone vieni vieni a te ti rimetto qua mi fai il bravo ok e stai lì ok ora c'è il semino della cobblestone quindi sono bravissimissimo sono bravissimissimo perfetto devo fare cobblestone ok ho quindi ho l'acqua ho il coso devo fare un cobblestone generator ti direi di sì no no aia 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 soffro soffro posso rompere la cobblestone posso smettere di bruciare grazie eh ce la posso fare ce la posso fare ce la posso fare ce l'ho fatta ora io ho un secchio di lava di acqua mi fa giustamente l'ossidiano eh giusto che c'è l'ossidiano ma che scherzi se io pianto questo qui e lì coso cammini l'occhio d'intorno lui dovrebbe crescere piano piano molto lentamente però lo dovrebbe fare poco brutto certo l'ho messo in un punto oddio sì guardalo se c'è shift mi spruzzetta oh che bello oh oh ragazzi c'ho un cobblestone generato a forma di fiore e io mi sto per bruciare mi sto per bruciare male ma male quanto il 47 così da un a gratis va bene 51 65 diamo uno stacchettino eeeh eccolo ma che mito che mito che mito e mi vorresti dire che mi posso allargare piano stai calmo non ti agitare te sei sei abbastanza nervoso eh vieni qua ok perfetto iiii l'acqua me la ripiglio l'ossidiana ah bello l'ossidiana ragazzacci questa è la volcano block oh mio dio che figata di pack mamma mia mamma mia qui piglia fa tutto gli è un casino partiamo da questo presupposto però abbiamo da mangiare in maniera incredibile con questi fiorellini spettacolari un nuovo modo di craftare roba attraverso dei fiori dei fiori che spruzzettano cobblestone a gratis sto pochino figato detto ciò ragazzacci ovviamente come sempre se vi è piaciuto il video invito tutti quanti a lasciare un like un commento e a condividere questo video su quanti social di cui tal lato trovatevi in descrizione se non l'aveste ancora fatto iscrivetevi al canale e dal nabbaccio scureggiante un salutone un abbraccio e alla prossima gente ciao 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 ciao